turistico. Martina Smith, un bel applauso. Grazie, grazie. Vieni. Allora. Vieni tesoro. Che dite? Che dite? Stasera sono abbastanza pallosa. Eh, un po' sì, bella, sei un po' pallosa. Eh, di palle stasera. Basta così, madonna. Sono arrivata dai Grammy Awards, visto che bella statuette il premio mi hanno dato. E per cosa? Eh, per l'esibizione più cretina. Eccoci, piccina picciò. Bene, un applauso a Martina.